E' ufficiale, David Sassarini non è più l'allenatore della Pistoiese. L'esonero da parte del club arancione nelle prime ore del pomeriggio di lunedì, fatale l'ennesima sconfitta stagionale degli arancioni, quella a Pescara. Insieme al tecnico esonerato anche il suo vice, David Alessi. Un momento negativo per la squadra che in realtà da inizio stagione non ha mai brillato, restando sempre nelle parti basse della classifica, solo 14 punti raccolti in 18 giornate, contro gli abruzzesi il decimo capo stagionale, il terzo consecutivo. Le prestazioni della Pistoiese non hanno mai convinto molto e per questo già nelle ultime giornate, anche con il crescere del malumore dei tifosi, si era preannunciata questa sorte, almeno che non fossero arrivati i risultati diversi e si fosse cambiata rotta. L'OS Pistoiese 1921 comunica l'interruzione del rapporto di collaborazione con il responsabile tecnico della prima squadra, David Sassarini, e con l'allenatore in seconda, David Alessi, si legge nella nota diramata dalla Pistoiese. La società ringrazia Mr. Sassarini e il suo staff per la professionalità e il lavoro svolto, rivolgendo loro un grande e sincero in bocca al lupo per il proseguo della carriera. Nelle prossime ore sarà reso noto il nome del sostituto e del nuovo staff. Ore di attesa quindi per i tifosi per sapere quale sarà il nuovo tecnico arancione, al quale sarà affidato un compito importante, dare una nuova linfa a questo gruppo, cominciare a far punti con prestazioni solide e concrete e togliere la Pistoiese da quella zona rossa della classifica per avvicinarsi il prima possibile alla salvezza.